benvenuti in questo nuovo video buongiorno a tutti oggi stiamo andando a vedere un altro piccolo borgo del basso lazio attraversando però un po dei castelli romani guardate un po ragazzi ho tagliato tutta la parte diciamo noiosa guardate dove siamo finiti in che stradine guardate guardate qua strade immerse nella natura sperdute potete immaginare la bellezza di andare in questi borghi perché l'emozione è trovarsi in queste strade no sperdute proprio completamente come potete vedere azienda agricola a destra a sinistra sembra di stare proprio nel nulla più assoluto e quella è la cosa bella come ripeto come avevo ripetuto anche nell'altro nel video precedente di gorga praticamente è questa la cosa bella non era il bello fare le corse in modo il bello attraversare questi fossi come potete vedere che uno si goda il paesaggio si goda la natura se ne va via dal dal traffico dai rumori completamente proprio strade che sembrano tra off road leggero perché la stessa è asfaltata ma come potete vedere praticamente è piena di buche però questa è la bellezza di andare in questi borghi e soprattutto fare questo tipo di strade perché ecco guardate che spettacolo che potete vedere guardate qui bellissimo ragazzi che spettacolo guardate qua sembra testa in montagna a tutta questa serie di curve una fontana sicuramente se seguite i miei video le mie indicazioni vi troverete sperduti nei posti più strani l'unica cosa è che dovete fare benzina perché non si sa mai quando si trova un benzinaio eccoci qua il balcone della ceociaria paese natale di dino manfredi avete visto dove vi sto portando e poi non dite che non vi porto in posti importanti ma mia è bello questo ragazzi è una bella strada spero che questi video vi piacciono guardate che bello il panorama poi lo vediamo quando scendiamo però guardate ragazzi bellissimo il paese arroccato bello adesso dove si va vi rendete conto ragazzi che spettacolo da questo da qua su Sì 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 Con questo mix di curve vi saluto, spero che anche questo video vi sia piaciuto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, ciao ragazzi!